Più di duemila persone hanno preso parte alla prima domenica del venticinquesimo dei festeggiamenti del Santissimo Crucifisso di Villantria a Magione. Un momento religioso molto sentito da tutta la comunità che per l'occasione si è impegnata anche in collaborazione con l'amministrazione comunale ad organizzare un ricco calendario di eventi fra momenti religiosi e spazi ricreativi. Un evento di popolo e di aggregazione sociale, religioso, che però vede coinvolte tantissime persone di questa comunità, tanti volontari, tante aziende che hanno contribuito con il proprio lavoro e anche l'amministrazione comunale che ha contribuito realizzando e permettendo di realizzare alcune opere importanti sia vicino alla Chiesa sia a quest'area verde dove siamo in questo momento. Durante l'Omelia della Santa Messa il Cardinal Gualtiero Bassetti ha citato Papa Francesco. La pietà popolare, ha detto riprendendo le parole del Pontefice, è fonte di evangelizzazione. E la riprova l'ho avuta anche stamattina. Non erano delle persone che si muovevano, erano dei popoli interi. E non si muovevano per un motivo di esteriorità o per qualche cosa di folcloristico, ma il centro dell'attrazione era Gesù Crocifisso, che sta al centro del mistero pasquale e della nostra salvezza. Mi riferisco in modo particolare all'immagine sacra venerata, quella di Gesù Crocifisso, il quale distribuisce ad ogni persona la pace, la serenità e la gioia e soprattutto è il segno della comunione. Cioè praticamente attraverso di Lui possiamo creare fra di noi relazioni belle, significative, anche se costano fatica. Ai festeggiamenti inoltre hanno preso parte molti nuovi abitanti e molte famiglie della zona di Sole Pineta, contribuendo fra l'altro all'organizzazione dell'evento. È stato un momento di aggregazione bello perché le persone che vivono lì, nella stragrande maggioranza, non fanno parte di tradizioni di questo territorio, conoscono altri usi, altri costumi. Si sono aggregate molto volentieri e hanno risposto con generosità all'invito e questo ci fa piacere. Quindi è un'ottima premessa per fare tanta strada insieme. Grazie 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 Grazie